Musica E nonostante le temperature ancora basse, è ufficialmente iniziata la primavera, prime prove tecniche di apertura della stagione balneare sulle spiagge della riviera, Paolo Pini è stato per noi a Cervia. Pasqua al mare, è iniziato il conto alla rovescia e sulla riviera Romagnola si lavora a pieno ritmo per l'apertura del prossimo weekend. Dopo Rimini già presente in classifica, Cervia e Milano Marittima sono entrate quest'anno nella top 10 delle recensioni del sito più noto per i giudizi su viaggi e vacanze. C'è chi pulisce e prepara la spiaggia, chi ha già messo lettini e ombrelloni. Bene le prenotazioni ci dice Claudio Fantini, titolare di uno stabilimento balneare di Cervia. Sì, dopo tanto freddo e tanta neve la gente non vedeva l'ora di venire al mare, infatti anche oggi qui con i cavalli abbiamo visto proprio l'interesse di venire a vivere alla spiaggia di sole e di primavera. Com'è nata questa prima uscita a cavallo al mare? Sì, molto bella, molta emozione, per me è la prima volta, inizialmente un po' di paura, poi comunque lo scenario è bellissimo. A Milano Marittima quasi pronto il nuovo lungomare per offrire sempre qualcosa in più ai turisti, si lavora anche sulla passeggiata del centro, cucine tirate a lucido e ristrutturazioni dei ristoranti per iniziare alla grande, ci dice il proprietario Massimo Natale. Direi che in questo momento Milano Marittima è un bel cantiere, quindi i presupposti sono perché alla fine di questi cantieri ci sia una Milano Marittima sicuramente più splendente per ritornare ai vecchi splendori di qualche anno fa.